Siamo nel paddock di Varano de Melegari in occasione del terzo appuntamento stagionale della Formula X Italian Series e per la precisione all'interno della tenda che ospita i portacolori del team Auto Officina Giannette, mia compagnia Andrea Giannette e poi due dei piloti del team ovvero Saulo Agorlato e Francesco Galli. Andrea iniziamo da te, vorrei subito chiederti queste novità che vanno a caratterizzare l'appuntamento di Varano con ben quattro vetture che saranno i nostri di partenza. Sì esatto, siamo molto contenti, quattro vetture stiamo crescendo, siamo partiti l'anno scorso quasi per gioco abbiamo incrementato appunto con i nostri driver da inizio stagione che corrono appunto con le nostre Formula Abarth e abbiamo altri due turismo tra cui un Peugeot 106 e una Clio Cup che inizieranno a girare appunto da domani per il campionato Touring Car affidati a Stefano Pallotti e Giannetta Mario che arriverà a breve. Allora la parola naturalmente anche ai piloti che scenderanno in pista in questa occasione Saulo Gorlato per te la tua seconda esperienza dopo quella precedente qui sul circuito di Varano al volante di questa vettura, il caldo sicuramente promette di condizionare non poco le prestazioni in pista e anche il rendimento magari dei piloti. Non aiuta assolutamente però siamo qua per divertirsi, tutto il tempo porta bene da parte il caldo però va benissimo, siamo nella mia seconda gara le libere sono andate abbastanza bene, purtroppo qualche piccolo errore in qualifica ci ha un po' penalizzato cercheremo di recuperare in gara 1 e vediamo come va. Francesco allora la tua prima esperienza al volante di questa vettura, intanto ti chiedo le tue prime sensazioni dopo aver naturalmente accumulato una grossa esperienza al volante della Predators allora che obiettivi ti puoi porre per questo weekend? Senti noi dopo il secondo posto all'Europeo di Rieca abbiamo deciso di fare il salto di qualità ci siamo presentati qui, ho comprato la macchina verniciata e senza neanche provarla partiamo primi degli altri, dopo i primi tre Formula 3 che sono un altro pianeta quindi direi buon risultato, abbiamo messo dietro il Formula Renault e tutti gli altri che potevamo mettere dietro quindi cerchiamo di tenere il passo diciamo degli astronavi e fare una bella figura e allora naturalmente occhi puntati sui protagonisti della Formula X che scenderanno in pista in questo round di Varano e De Melegari in bocca al lupo allora ai rappresentanti del team autofficina Giannetta e buon weekend da Varano e De Melegari grazie a tutti